C'è gente che da adesso incomincia a pensare il dopo, il dopo la pandemia. Tutti i problemi che arriveranno, problemi di povertà, di lavoro, di fame. Speriamo per tutta la gente che aiuta oggi, ma pensa anche nel domani per aiutarci a tutti noi. C'è gente che da adesso incomincia a pensare il dopo, il dopo la pandemia. Tutti i problemi che arriveranno, problemi di povertà, di lavoro, di fame. Speriamo per tutta la gente che aiuta oggi, ma pensa anche nel domani per aiutarci a tutti noi. Allì lo tiene, sono le parole del Papa Francisco, in cui, justamente, ante questa pandemia, che ha unito al mondo, di qualche modo, perché tutti stanno concentrati in sua gente, il Papa dà il messaggio per a rezar per tutti que, come le diciamo in la nota anterior, di persone che stanno contagiati al mondo e che stanno luchando dia a dia per sobrevivire in questi casi, in cui il Papa exhorta a tutti a rezar per quelle persone che in questo momento si stanno contagiati e che stanno in processi in molti paesi di desesperazione. Molto di questi se recuperaranno, sin embargo, anche il Papa fa' enfasi nel futuro, in lo che tutti noi stiamo concentrando in termini di quello che potrebbe affectare posteriormente di quelli che si stanno preparando, justamente per lo che non conosciamo, perché non sappiamo che passano dopo questa pandemia. Sin embargo, hai che orare per questo futuro che ancora non conosciamo, ma exhorta a tutte le persone per poter rezar tanto per le persone che padezono oggi, come anche per le persone che in un futuro si possono vedere comprometite per la economia, per il desempello e per tantissime cose che possono affectare a le persone in tutte le persone in tutte le parti del mondo. Quindi è un momento di chiamato a la unità di ogni uno di tutti i abitanti per orare per le persone che oggi non le stanno passando anche, però che nel nome di Dio, potrebbero salvarsi in tutti i paesi. immaginati, immaginati, più di 180 paesi che già hanno avuto il coronavirus, in cui quasi si arriva a un promedio di 50 mil persone che hanno falleciato. Questo è il scenario che a livello mondiale si sta affrontando. Quindi il Papa Francesco si è unico con tutto il mondo mondiale per fare una orazione che possa davvero aiutare a quelli che sono più desprotegiti. Con queste parole del Papa Francesco noi facciamo una breve pausa, però che se con noi, perché le notizie non acabano qui, continuano. E c'è molto che deve sapere da sua casa.